Uè! Non fare il tacco incacchiato! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Uè! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi mamma mia lo sapete meglio di me quante novità sono uscite nella giornata di ieri per quello che riguarda il futuro di Fortnite. Possiamo già dire ragazzi Fortnite capitolo 2. Sono uscite delle immagini veramente mozzafiato una in particolare quella che molti utenti da iPad o comunque da dispositivi iOS riescono a vedere in anteprima. Un errore? Un easter egg? Un leaks? Beh sicuramente una cosa di voluta che crea sicuramente un panico e un hype pazzesco per quanto riguarda ovviamente l'evento di domenica. Nel video di oggi parleremo di tutto quello che c'è da sapere di Fortnite chapter 2 capitolo 2 in italiano. Ma vedremo anche sempre tradotta dal sottoscritto una teoria anzi più che una teoria ciò che potrebbe realmente succedere al momento dell'evento delle ore 20 di domenica. E ovviamente un bel po' di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di Fortnite. Prima però volevo ringraziare... chissà dove è finita... eccola qua. Ringraziare tutti quelli che ogni giorno guardano le mie live su Twitch dalle 8 alle 18 e grazie ovviamente a tutti quelli che utilizzano il codice creator Xuderone. Dai raga mi raccomando iscrivetevi in tantissimi ai canali e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video. Prima però mi scendo una lacrimuccia ma devo farvi la domandina la lacrimuccia perché in realtà so già la domanda. Ringrazio sempre tutti quelli che mi rispondono ogni giorno qua sotto nei commenti. La domanda di oggi non ve l'ha inoltre neanche, ve la dico proprio così. Qual è il tuo più bel ricordo di Fortnite? Eh sì ragazzi perché fra due giorni tutto cambia quindi tenetevi stretti i vostri ricordi di questi due anni. Con questa mappa 10 stagioni di un videogioco che ha sicuramente stravolto nel bene o nel male la vita di tutti noi. Che ci giochiamo? Il mio ricordo più bello è la mia prima vittoria reale ovviamente 2017 qualche giorno prima del 17 dicembre. Me la ricordo la conoscete anche voi se avete visto il video è quello che mi ha fatto più visual quindi molti di voi la conosceranno ed è veramente una cosa emozionante. Subito dopo la mia prima skin acquistata veramente tanta tanta roba e quindi un piccolo Secondo per ringraziare tutto il team di Epic Games tutto il team capitanato da Donald Mustard. Comunque ricordiamoci sempre che giochiamo a un videogioco gratuito e quindi ci stanno le nostre lamentele. Ma ricordatevi sempre che non ci stanno facendo spendere un euro per giocare a questo meraviglioso capolavoro che racchiude veramente il cuore e la mente di un sacco di persone. Ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito a vedere la notizia direttamente presente nelle notizie ufficiali della dashboard di Fortnite. La fine è vicina due giorni questo risale ovviamente a ieri oggi dovrebbe cambiare nuovamente e diranno un giorno lo prendiamo come teaser non come teaser lo prendiamo così come viene. Non ci sono per quanto sembrerebbe per questa stagione i teaser e devo dire che ci sta come cosa la sorpresa è sicuramente più apprezzata con questo enorme cambio che sta per arrivare. enorme cambio che si vede nell'immagine scoperta proprio da un ragazzo italiano nel pomeriggio di ieri diventata poi virale in pochi minuti in tutto il mondo che è quella di Fortnite Chapter 2. Qua vedete Chapter perché l'immagine più ad alta definizione l'ho trovata in inglese e... Non so bene come poter commentare questa fotografia che lascia o meglio mi ha lasciato subito a bocca aperta e spero che anche a voi lo abbia fatto. Vediamo innanzitutto in primo piano tre nuove default skin che dall'alto di una collina scrutano una nuova mappa qualcosa che non si è mai visto per questi 24 mesi e più di Fortnite. Ci sono dei punti interessantissimi in quest'immagine a guardare subito sulla sinistra si vedono due veicoli che sono sull'acqua. Come vedete c'è un fiume che si dirama e quindi potrebbe essere una mappa divisa in più punti dall'acqua. Il che ci fa ovviamente pensare che nel capitolo 2 di Fortnite sia possibile nuotare. Ne avevamo parlato già tanto tempo fa la community anche su Reddit spingeva tanto sul fatto di dare la possibilità ai giocatori di nuotare per una serie di cose. Nel senso in molti videogiochi si può nuotare adesso io faccio un salto indietro proprio nella fine degli anni 90 per darvi un esempio. GTA Vice City capolavoro della Playstation 2 che riscuosse un successo ai livelli di Fortnite ragazzi assurdo nella community di chi giocava. Non si poteva nuotare in San Andreas capitolo successivo. Arrivò la possibilità di nuotare e fu veramente l'apice delle figate che si potevano fare in un open world come quello di appunto GTA. E ci lascia pensare appunto che si possa nuotare che ci saranno dei veicoli acquatici ma se ci spostiamo sulla destra invece vediamo quello che sembra essere la prima, quella che sembra essere la prima city. Sebbene molti l'hanno un po' confusa con Pinnacoli a me sembra diverso perché in realtà c'è un unico grande gigante edificio centrale guardandola un po' zoomata non vedo altre cose intorno all'edificio quindi potrebbe semplicemente essere un anzi sarà quasi certamente una delle nuove location. Come vedete sullo sfondo ci sono ancora delle colline e ovviamente una delle cose che non esistono adesso su Fortnite o meglio non così evidenziate sono le nuvole quindi anche il cielo cambierà. Ma il che ci fa pensare che potrebbe arrivare anche la pioggia ci starebbe veramente tantissimo bisogna sempre comunque stare attenti a non appesantire troppo con la grafica. Un videogioco che comunque è giocato anche da molte persone non con dispositivi all'avanguardia. E andiamo avanti con il prossimo argomento ecco qua ragazzi l'elenco delle città presenti nei file di gioco. Beach Bluff, Camp Cod, Dirty Docks, Frenzy Farm, Holly, Hedge, Lazy Lake, Mountain Meadow, Power Plants, Larpy Swamp, Sunny Shores, Weeping Woods e Mountain Meadows. Che staremo, che è ripetuto due volte, mannaggia, vabbè comunque l'ultimo non conteggiatelo che sono appunto l'elenco delle nuove città che arriveranno con la nuova mappa. E chiudiamo ragazzi ovviamente guardando ciò che succederà nell'evento in qua, in qua è scritto in inglese ma io mi sono un pochettino preso la briga di tradurlo in italiano e la traduzione fa più o meno così. Mentre il conto alla rovescia sta avvenendo la zona di sicurezza sarà attorno ad Asti Depot quindi la safe zone sarà appunto, si chiuderà lì. Sembra che ci sia un modo per i giocatori di unirsi alla LTM quindi all'evento convertito in LTM come lo scorso evento perché la stringa nell'evento chiamata Very Late Join conteggierà 170 secondi che equivalgono a 2,8 minuti il che vuol dire che anche chi non è presente direttamente nell'evento può comunque unirsi in questo lasso di tempo sebbene l'evento sia già iniziato. Durante l'evento i giocatori saranno immuni alla tempesta e il conto alla rovescia avviserà ai giocatori quando mancheranno 10 minuti e un minuto dalla fine del conto alla rovescia. Una volta che il timer ha raggiunto i 30 secondi Fortnite considererà questo chiamato come Final Timer. In quel momento si verificheranno gli eventi relativi al razzo. Il razzo inizierà ad accumulare vapore, verrà emesso un suono di avviso e il razzo verrà lanciato. Non si sa poi cosa succederà dopo perché non lo sa nessuno ma quando arriverà l'inizio dell'evento i giocatori non potranno guidare, non potranno entrare in nessun veicolo, non potranno utilizzare il driftboard, cambiare equipaggiamento, interagire con le strutture, usare i materiali, cercare, aprire i forzieri, sparare, usare le munizioni. Si pensa che l'evento sia direttamente nella fase notturna del gioco. Nella parte finale dell'evento, chiamata proprio Impatto Finale, vedremo un'onda d'urto che invierà tutti i giocatori nel punto 0. Da lì verranno risucchiate tutte le cose della mappa, vedremo una striscia di luce proveniente dal punto 0 attorno ai giocatori e una volta che saremo risucchiati dall'alto vedremo comparire davanti a noi la nuova mappa con tutte le nuove location. Insomma ragazzi, live è veramente tantissimo. Vi ricordo che io sarò ovviamente in live dalle 19 di domenica per seguire insieme a voi l'evento. Spero che sarete in tantissimi. Vi ringrazio per aver guardato questo video. Un bel pollicione in su. Iscrivetevi ai canali. Noi ci vediamo alle 8 in live su Twitch. Ciao!